Salve ragazzi, ritornando al fatto della supernova, oggi ho fatto un video, allora questa è la supernova, eccola qua, vedete? Eccola qua, questa qua, questa è la supernova che esplosa, il bagliore di questa supernova è durato più o meno un anno, io vi faccio vedere qua quello che c'è scritto, vedete? Qui riporta tutto quello che è scritto, ok? Va bene? Si sta alla distanza, sta a 70 milioni di anni luce, la grandezza di questa galassia a spirale, che è simile alla nostra, è 60 mila anni luce, io ho fatto un conto che è grande come il mio televisore, perché io più o meno ho riportato il mio televisore, vedete? Però, siccome va con un pezzetto che esce fuori, diciamo che è come il televisore, diciamo che arriva proprio al fondo del televisore, la galassia, fino al fondo del televisore, qui diciamo che è arrivata ai confini, però il televisore continua, vedete? Il mio televisore è un 75 pollici, 75 pollici è largo, 194 centimetri, da punta a punta a punta, 194 centimetri. Diciamo 190 centimetri è la galassia, che sarebbero 60 mila anni luce. Questo qua, io ho pure il metro, le faccio vedere, ora non si sa che vi è stato miturato tutto il televisore, perché è un problema miturarlo, ecco. Le faccio vedere quant'è? Allora, le faccio vedere quant'è. Vedete? Io metto il metro qua, ragazzi, eccolo qua. Questa qui è 7 centimetri, il bagliore totale, più o meno, è di 7 centimetri. 7 centimetri. 7 centimetri. Facendo tutto il dividendo, 60 mila anni luce, la luce da qui, da arrivata qua, arriva fino all'alto, mette 60 mila anni, per attraversare questa galassia. 60 mila anni. Questi 7 centimetri, dividendoli, sono 2500 anni, più o meno, sui 190 centimetri. 2000, più o meno, 2500 anni. La luce da qua, da punta a punta, ok? Ascoltate bene, capite bene? Sono 2500 anni. Il bagliore massimo è stato raggiunto dopo tre mesi, il massimo bagliore di questa supernova. Significa che in tre mesi, la luce, questa qui, ha percorso 2500 anni, in tre mesi. Luce, anni luce. Diciamo però che la luce parte da punta qui a qua, no? Diciamo che parte, la luce parte da qua a qua, perché è normale, esplode qua, va qua, no? Ok? Diciamo che la velocità è questa, la stella, che è piccolissima, è una stella che tu, anche se sei una supernova, però è una stella che non si vede. Queste qua che vedete, non sono stelle, questi sono a massi di stelle. Quando vedete tutta sta roba qua, tipo questi puntini, non è una stella, questi sono a massi di stelle. A massi. Non è una stella, sono a massi. Significa che tu, siccome la galassia contiene miliardi di stelle, significa che qui se ne stanno, magari sono 100 stelle, tutte ammucchiate, che stanno tutte in quel mucchio e sembra di vedere una stella sola. Invece sono a massi di stelle. in poche parole, questa supernova, mettete che sono 3 centimetri e mezzo, sono 1250 anni, 1200 anni luce. In poche parole, la luce ha percorso, per fare questo, questo esplosione, questo lampo, 1200 anni, in tre mesi. La luce viaggia, se la luce si mette 1200 anni, da qua a qua, invece di 2500 anni, per farla tutta qua, però diciamo la metà, 1200 anni, l'ha fatta in tre mesi. Non è 1200 anni, in tre mesi, significa che l'esplosione è stata così potente, che ha superato di gran lunga la velocità della luce, perciò è inutile che loro mentano, sapendo, come ho detto, di mentire, perché questa è carta canta, perché le chiacchiere stanno a zero, le misure, si riportano le misure in scala, si porta la misura in scala della galassia, eccola qua, la galassia aspirata di 60.000 anni luce, questo pezzetto, che sono 7 centimetri, sono, ok, 2500 anni luce, da qui a qui, 2500 anni, perché la misura è quella, e la stella poteva essere una supernova, grande come questo puntino, che manco si vede, piccolissimo, una cosa che è manco impercettibile, manco si vede, che sta a 70 milioni di anni luce, significa che i dinosauri sulla terra ancora, già giravano ancora, tranquillamente i dinosauri sulla terra, quando è esplodata la supernova, questa è stata vista nel 2018, fino al 2019 si è vista la supernova, quando si è vista più, perché è normale, si è affievolita, la luce è sparita, non ci sta più, perché è normale, tutta la cosa è, però nei primi tre mesi è stata la massima, il massimo che ho avuto, in quei tre mesi, ok, è questo qua, 7 centimetri, fatevi conti, se la matematica non è un'opinione, è inutile che noi ci facciamo prendere per il culo, da questi astrofiscici, pagliacci, perché ho sempre detto che sono dei pagliacci, un'esplosione di una supernova, supera di gran lunga, la velocità della luce, di gran lunga, ok, è inutile che questi ci raccontano le solite fregnacce, perché se tu in scala, fai questi paragoni, fai proprio porti col metro, portate il metro, portate la galassia, quello che è, non ti puoi sbagliare, perché è quello, a meno che è un fotomontaggio, non è un fotomontaggio, perché la stella, stava proprio nei bordi della galassia, proprio poi finita ai confini della galassia, esplosa, perciò, anzi, è pure meglio, se fosse esplosa qua, magari si poteva confondere con tutto, invece è esplosa proprio qua, ai bordi della galassia, pensate che culo, così si riusciva, meglio, e sono stati tre anni loro, dicono, a misurarla, tre anni buoni, ci hanno perso tempo, per uscire con una conclusione, che è esplosa questa supernova, alla velocità della luce quasi, mancava poco la velocità della luce, mancava al 99,7%, ho detto oggi, 99,7%, significa che i frammenti, tutte quelle partite, è andata a, se fosse come dicono loro, questo bagliore qui, questo bagliore qua, che sono, 2200 anni di distanza, porca puttana, non dire cazzate, la stella rimaneva piccolissima così, capito, cazzari, cazzari, siete dei cazzari, ok, cazzari, astrofici, perché non vogliono dirlo, perché sennò, come ho detto, farebbero la più grande figura, di merda, di tutti i secoli, a me non gli date la luce, non sei sopra, carta canta, ho preso le misure, ho fatto tutto, corrisponde tutto, siete dei cazzari, 2500 anni luce, questo bagliore è largo, 2500 anni luce, ok, ok, fateli bene, potete dirlo, agli imbecilli, che non ci capiscono cazzo, sapete che loro, sono a setta, no, e dicono tutte puttanate, però tu non puoi dire, allora questa, questa galassia, non è 60.000 anni luce, sarà 5 anni luce, mezzo anno luce, 200, un chilometro, è in chilometro, è piccolissima sta galassia, perché non può essere che un'esplosione, va alla velocità della luce, e ci mette questo qui, 2500 anni, va visto questo bagliore, cazzate, siete dei cazzari, astrofisici cazzari, e de merda, ciao regà, sputtanati, ecco, vi ho sputtanati,